intelligenza in edilizia la prima cosa che dobbiamo fare per diventare degli imprenditori in edilizia intelligenti è cancellare il contenzioso cosa significa significa questo se tu vuoi essere un imprenditore nel campo dell'edilizia dove puoi dedicarti esclusivamente al tuo lavoro ai tuoi profitti alla gestione della tua azienda a non avere problemi quindi poterti dedicare per bene la tua famiglia la prima cosa che devi fare è cancellare il contenzioso potrebbe essere che nella tua azienda hai tutta una serie di pratiche una serie di situazioni dove ci sono delle contestazioni e si dice appunto avere un contenzioso potrebbe essere con i dipendenti potrebbe essere con i clienti potrebbe essere con i fornitori potrebbe essere con l'agenzia delle entrate potrebbe essere con qualche altro ente quindi delle problematiche di carattere privato e delle problematiche di carattere pubblico la prima cosa che devi fare per farti spazio e poter progredire e per poter raggiungere una certa serenità nel tuo lavoro e dedicarti al tuo lavoro è sicuramente cancellare tutte queste fonti di distrazione perché oltre ad essere una problematica che potrebbe sfociare in una di carattere economico sicuramente la parte più importante che andrai a guadagnare quando sono state chiuse queste problematiche è la parte che impatta con la tua vita e quindi ti distrae e quindi ti porta preoccupazioni anzi e quindi ti distrae perché ti porta delle preoccupazioni ti porta dei mal di pancia ti porta a fare dell'altro che non è il tuo lavoro il tuo lavoro è costruire questo invece il contenzioso normalmente distrugge affronteremo in un altro video di come fare in modo di prevedere il contenzioso per il momento vediamo di affrontare cosa devi fare per annullare tutto il contenzioso che hai e renderlo inesistente la prima cosa che devi fare è prendere posizione per posizione ovviamente se c'è un contenzioso hai già un avvocato che te lo sta seguendo ma tu devi prenderti posizione per posizione analizzarla effettivamente bene e riuscire a capire quali di queste posizioni puoi cancellare ti poni un obiettivo che deve essere quello di cancellarle tutte e poi le analizzi una una per vedere in che modo puoi eliminarle naturalmente ti devi porre nella condizione di fare una valutazione anche soprattutto economica di quanto ti venga quanto venga ad essere l'investimento che devi fare per chiudere quelle posizioni magari hai una posizione che vale 5 milioni di euro dove tu avanzi 5 milioni di euro può essere che quella sia una posizione difficile da chiudere dall'oggi al domani ma magari ci sono tutta una serie di posizioni che più che per il bene dell'impresa tu le abbia affrontate o tu sia stato colpito per ragioni di principio ricordati sempre la tua figura tu sei un imprenditore e hai un compito previsto dalla legge ma che effettivamente moralmente condividerai con me che è quello di servire la tua azienda tu sei il proprietario sei l'amministratore ma il tuo compito è quello di servire l'azienda quindi tutto quello che fai non lo devi mai fare per ragioni di principio ma le devi sempre fare con mente fredda con mente matematica per poter valutare se effettivamente il comportamento che stai tenendo fa bene o fa male l'azienda una frase del tipo questi non si meritano che magari riferito alla tua controparte non è una frase che tu puoi inserire nella tua checklist nel tuo prospetto SWOT che farai per poter valutare come ti dovrai comportare di fronte a quella vertenza per cui la prima cosa che devi fare è fare una divisione andare a mettere in un recipiente tutte quelle cause che magari per ragioni di valore o altre motivazioni dobbiamo assolutamente attendere che il giudice abbia finito il suo lavoro ma ad andare ad individuare tutte quelle pratiche che invece in qualche maniera le possiamo transare le possiamo chiudere dove il tuo parametro di riferimento è il bene dell'azienda tante volte il costo beneficio di una tua decisione è perfettamente bilanciato a volte favorevole a volte sfavorevole e tu cui dovrai assolutamente individuare dove è molto più conveniente chiudere una posizione ti racconto una storia che mi è capitata naturalmente con un cliente per vari motivi un cliente aveva dato 2000 euro per fare uno studio di fattibilità in un immobile questo studio di fattibilità è stato fatto li voleva indietro perché le opere poi non sono state eseguite in realtà tendenzialmente per colpa della della controparte fare una causa per 2000 euro è una cosa poco ragionevole in questo caso piuttosto che affrontare una causa e quindi perdere moltissime ore per questa causa avere il pensiero per questa causa ovviamente ti sto parlando di un'impresa idile come la tua che fattura alcuni milioni di euro non conviene si fa prima a restituirli a fargli un'offerta che ne restituiamo a metà e via discorrendo è chiaro che dici sono della parte della ragione mi tocca pagare ma devi fare mettere vicino un'altra cosa per l'azienda è meglio pagare e investire quel tempo e le risorse di quell'avvocato per un'altra cosa per esempio andiamo a rifare un contratto investiamo quei soldi che spenderesti per l'avvocato per quella causa per mettere a posto un contratto che quindi diventa un investimento a lungo periodo oppure conviene prendere la ragione non dover restituire 2000 euro e bla 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 questo è una valutazione che devi fare tu perché sei tu l'imprenditore fatta questa divisione quindi cause che vale la pena chiudere per carità cause in cui non vale la pena chiudere cioè non vale o non posso chiuderle perché se hai un contenzioso con l'agenzia delle entrate oppure con la direzione territoriale del lavoro difficilmente puoi decidere di dire va bene dai la chiudo devi attendere no come se hai un procedimento penale devi attendere che si completi ma tutte quelle che possiamo chiudere prima chiudiamole ok cerchiamo di chiudere o tentiamoci ok in realtà voglio completare perché non vorrei che ti facessi diciamo e quindi questa è una parentesi ok vorrei che ti facessi una un'idea sbagliata in realtà questa azienda ne aveva fatte a centinaia di questi tipi di studi di fattibilità e poi molti e poi ha dovuto comunque dare un messaggio che per l'azienda era conveniente resistere perché se si fosse sparsa la voce allora si diventava un dramma perché la cifra diventava estremamente alta quindi in quel caso in realtà è convenuto è convenuto andare in causa e aspettare l'inizio della causa per poi mettere di fronte il cliente al fatto che stava spendendo già molti soldi non era chiaramente certo di poter vincere e quindi la strategia è stata quella di fare un'offerta a causa già iniziata ma tante volte la possiamo semplicemente semplicemente evitare quindi lista ha le cause che devo aspettare che finiscono non ho altre soluzioni lista b le cause insomma che in fin dei conti potrai anche riuscire a chiudere con un piccolo sforzo o con uno sforzo però insomma avendo un certo tipo di vantaggio quando hai fatto questa lista ti trovi con l'avvocato e fate la valutazione insieme ricordati che per te non è importante questa l'ha vinto con questa l'ha aperto ma per te è importante quante risorse e quanto tempo e quanta serenità io guadagnerò da questa da questo da questo armistizio ok quindi il parametro è completamente diverso dopodiché si esplora si tenta si va in azione si cerca di cancellare il contenzioso adesso io ho sottinteso che il il contesto parli solo ed esclusivamente di cause già in tribunale però noi adesso lo dobbiamo assolutamente estendere e lo dobbiamo estendere invece alle cause alle rogne ok che potrebbero anche benissimo non essere non essere in causa qui faremo di nuovo una un po' di di liste mettiamo da una parte quelle pericolose mettiamo da una parte quelle dove siamo assolutamente tranquilli che vinciamo e mettiamo da un'altra parte o quelle in dubbio oppure quelle diciamo varie ed eventuali vanno gestite in maniera diversa ovviamente queste tre liste in realtà dovrebbero vabbè le dividiamo un'altra volta e le mettiamo tra quelle che sono già in causa e quelle che non sono in causa su quelle che non sono in causa possiamo fare tanto su quelle che sono in causa ti rimando al ragionamento che ho fatto prima quando non sono in causa in realtà io li ho un potere di gestione che è veramente grande ok quindi sicuramente quando qualcuno mi viene a chiedere la restituzione di soldi o una richiesta di risarcimento d'anno devo resistere fino alla fine devo sicuramente mai dar mai dare lenza ok ma certamente devo sempre cercare di tirare ma questo mi deve servire come strategia per stancare l'avversario in modo che io che già all'inizio della mia strategia ho messo un budget per quell'avvertenza poi la posso benissimo posso benissimo offrire una parte di quel budget per poi arrivare anche consumarlo tutto perché me lo sono già messo diciamo a bilancio preventivo appunto budget e bilancio preventivo sono la stessa cosa ok in italiano non ho allora cosa succede che quindi ho anche oltretutto già organizzato qual è il mio rischio legale quando io parlo di rischio in ambito legale ti sto proprio parlando di questi calcoli ti sto proprio parlando del fatto di dire io per quella causa lì posso mettere a disposizione di poter spendere 5 mila euro ovviamente lì c'è il risarcimento il costo dell'avvocato il costo di eventuali tecnici via discorrendo questo è il budget di rischio per quella causa lì nelle imprese più strutturate tutti gli avvocati fanno una relazione dove già indicano questi dati a volte però vengono passano poi al vaglio fiscale del commercialista e per ragioni di bilancio questi dati vengono modificati in realtà non sono reali tu devi avere nel tuo file in realtà tutto quanto ben mappato nella realtà ti apro la parentesi quando per ragioni fiscali vai a dichiarare qualcosa che non va bene succede perché non lo dobbiamo negare però è illegale ok ci possono essere delle conseguenze di una certa gravità detto questo si fa un percorso si fa una strategia si progetta la strada per poter arrivare alla chiusura maggiore di queste di queste posizioni quanto tempo ci vuole in quanto tempo li devo chiudere puoi benissimo darti dei termini puoi ascoltarti dei limiti che riguardano la strada da percorrere cioè se entro il non sono riuscito a raggiungere quell'obiettivo passo all'opzione b però riuscire a prevedere entro quando finirai realmente è molto difficile puoi prevederlo ma non puoi farsi affidamento perché perché tu non stai giocando da solo stai giocando con un altro che è dotato di quella brutta bestia che si chiama libro arbitrio e quindi in realtà ogni tua ogni tua diciamo ogni tuo input scusami ogni tuo output dopo in realtà viene condizionato dal suo output e quindi automaticamente siete in due che giocate la partita e quindi non sai però che mossa farà controparte tu dopo la mossa di controparte solo allora potrai decidere cosa fare no va avanti a step ti faccio un esempio allora c'è un'azienda meravigliosa che io seguo che abbiamo iniziato a lavorare mi sa settembre del 2022 e aveva almeno 40 45 posizioni posizioni non giudiziali tutte legate al super bonus quindi cantieri che non erano stati fatti vizi e difetti chi più ne ha chi più ne ha più ne metta attualmente nel frattempo abbiamo avuto in quello quindi sono due anni e mezzo da settembre ad oggi che è maggio 2024 sono due anni e mezzo più o meno attualmente ne abbiamo ne avremo sei cinque sei di cui quattro sono parcheggiate vuol dire che abbiamo fatto abbiamo resistito abbiamo fatto una serie di cose e questi non si sono più fatti sentire abbiamo avuto una un accertamento tecnico preventivo l'abbiamo transato adesso in corso abbiamo due cause una è è quella che dicevo prima dei 2000 euro che però penso che la chiudiamo a breve e l'altra invece no quella è importante quella è una causa importante che hai poco da transare anche perché l'avvocato di controparte che è una delle incognite più grandi è una è un collega che non transa non transa mai quindi qualsiasi sia qualsiasi sia qualsiasi sia che possa succedere dopo quelli non transa lui deve arrivare in fondo ovviamente di fronte a questo sei ammanettato non hai altre soluzioni anche perché naturalmente qui essendo un 110 con sisma e quant'altro gli importi sono enormi e quindi è È l'unico caso che mi è capitato che toccherà arrivare in fondo. Però di tutte quelle cause che ti ho detto, voglio dire, le abbiamo risolte tutte in due anni e mezzo. Abbiamo lavorato sodo per poter fare questo, vuol dire che ci siamo trovati in un primo periodo una volta nei 15 giorni, poi abbiamo aumentato tutte le settimane. Io andavo in azienda e ci mettevamo con la checklist, la prima e l'ultima. È stata una bellissima esperienza, oltretutto con una soddisfazione soprattutto del cliente incredibile, ma certamente anche da parte mia. E adesso abbiamo ridotto, vado una volta nei 15 giorni, perché non serve più questo assiduo, diciamo, intervento. Ok, da una cinquantina siamo arrivati a 6, 7, 8, non lo so, siamo meno di 10. In due anni e mezzo è stato un risultato incredibile. E abbiamo usato questo metodo che ti ho detto, cioè abbiamo fatto tutta quanto una certa di cernite. Una cosa la mettiamo in questo vaso qui, una cosa la mettiamo in questo vaso qui, e quindi le abbiamo messe insieme e sapevamo, a seconda del filone che abbiamo creato, bene o male quale poteva essere la strategia. Ok, termino, perché sennò il video diventa troppo lungo, ma riassumo un attimo. Il contenzioso va portato a zero. In queste mie esperienze ci sono voluti due anni, due anni e mezzo, e una causa andrà avanti per i tempi che vorrà il tribunale. Adesso con l'imprenditore dobbiamo fare un altro tipo di percorso, perché questo volume di contenzioso naturalmente ci ha, come si dice, impegnati tutto il tempo. Farò degli altri video nei quali ti do tutta un'altra serie di suggerimenti operativi perché tu, self-service, abbia la possibilità di farti queste cose. Se ti impegnati, impegnati, mettici la testa e provaci, ok, a diventare anche tu un imprenditore intelligente. Imprenditore è dire in edilizia intelligente, e poi la cosa che devi fare subito dopo aver finito di vedere questo video è mettere mi piace, fare clic sulla campanellina per non perderti i video successivi. E non è una frase fatta, perché adesso noi faremo un percorso dove io ti darò video dopo video tutti gli strumenti operativi spiegati bene per poter diventare un imprenditore intelligente, perché io non sto facendo pubblicità, io sto facendo informazione per dare una mano a te, ok? Quindi devi essermi grato, campanellina, metti mi piace e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti!